Penso che noi due dobbiamo lasciarci Perché? E' che sei basso Non ci penso Ma lasciata perché diceva che era troppo basso Mi telefono tutti i giorni Risponde quella deficiente della madre Mi dice che dorme Buonasera, c'è Anna? No, è la dottima Ma dove 4? Ma non le vale la pena E' rifidanzato E con chi? Ma chi è il figlio? Quello è Ruggero Il mio fidanzato Grazie